Tutto acceso, prende la coppa del secondo, siamo abbondantemente oltre i 200 podi per Valentino Rossi, dato statistico che gli interessa meno rispetto a quello delle vittorie e della possibilità di portare a casa un altro mondiale, certo è che si è ritrovato sul cammino. Un compagno di squadra davvero molto 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 tosto, come già del resto si sapeva. Eccolo qua, il vincitore, Jorge Lorenzo. Due spagnoli tornano sul podio, Lorenzo e Daniel Pedrosa. Lino, la marcia reale suona per loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.